Oltre 7.000 studenti campani degli istituti di primo e secondo grado hanno partecipato in streaming all'evento finale dell'ottava edizione del progetto SISaggio Guida Sicuro, promosso dall'Associazione Meridiani, per educare e sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale. La premiazione del concorso di idee Inventa una soluzione per la sicurezza stradale è stata condotta dagli attori Gigi e Rossi, ha visto la partecipazione in studio di Ada Minieri, Alfonso Montella, Alessandra Franciosa dell'Associazione Meridiani, dell'attore Alessandro Incerto e di Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. Una grande iniziativa che ha consentito di formare 7.000 ragazzi, ottava edizione, una cosa molto importante per le nostre giovani generazioni in particolare. Guidare in sicurezza è l'obiettivo di questa iniziativa che sta riscuotendo un grande successo, coinvolge le scuole, coinvolge le famiglie, ma soprattutto pone un argine a una situazione che sta diventando sempre più difficile. L'abuso di alcol psicofarmaci, accentuato anche in questa situazione di pandemia, ma anche l'uso del cellulare, stanno rendendo molto più problematica la sicurezza stradale. Questa iniziativa si inserisce in un contesto in cui occorre lavorare sulla formazione dei ragazzi. Il successo dell'iniziativa è stato molto importante e sicuramente avrà dei frutti positivi per i nostri giovani e le nostre famiglie. Noi come Regione Campania appoggiamo con convinzione questa manifestazione e questa iniziativa insieme a tutte le altre componenti istituzionali. L'educazione stradale è una delle priorità del programma che il Ministero dell'Istruzione ha perfezionato per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza sulla strada, in modo da poter interiorizzare quei valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive. L'Associazione Meridiani promuove da anni questi temi attraverso il progetto sulla sicurezza stradale SISaggio Guida Sicuro. E' questa infatti l'ottava edizione che si è svolta in collaborazione con la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, l'Università Federico II, l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, la Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Corpi di Polizia Locale, le Forze Armate, l'ANAS, la Tangenziale di Napoli, l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e tante aziende.